Siamo tornati qui al ciclodromo di Santa Andrapiglia dove avevamo stati qualche mese fa per sottolineare come questa struttura sportiva che venne inaugurata in Pompamagna durante l'amministrazione poi è stata un po' dimenticata e sicuramente sottoutilizzata se non a volte neanche per niente e adesso c'è una novità perché c'è stata una sorta di sopralluogo nei giorni scorsi del vice sindaco Camurrini con l'associazione Kart Arezzo, hanno provato i kart soprattutto per un discorso di decibel per vedere se poteva essere compatibile un utilizzo per il kart di questo ciclodromo e pare che il test sia stato positivo quindi a quanto sembra quando adesso ci sarà il bando intanto stiamo vedendo anche delle foto che lo stesso vice sindaco ha postato su Facebook quando ci sarà il bando potrebbe anche partecipare la stesso kart e quindi pensare a una struttura il cui bando appunto era stato vinto dall'Unione Ciclistica Retina per aprirlo anche ad altre discipline come il kart, come anche il podismo, come altri sport perché no visto che sono spesi tanti soldi della regione per fare questo mi sembra anche opportuno poterlo poi sfruttare e tenere così come si deve con l'erba alta così abbandonato come adesso non so chi l'abbia in gestione oggi mi sembra che non l'abbia in gestione proprio nessuno ma sicuramente renderlo polifunzionale sicuramente potrebbe essere una cosa interessante visto che la struttura è bella siamo in piena campagna vista meravigliosa vedi guarda qua e quindi penso perché no potrebbe essere sfruttato sia per i kart sia per il podismo per una serie di eventi anche non soltanto questi ma tante altre discipline sportive potrebbe essere utilizzato in maniera più intensiva rispetto a quello che ho oggi che oggi di intensivo non ha niente è un vero peccato perché è veramente bello indubbiamente è sponsorizzata con sieri comunali che in tutti i modi volevano sta pista perché il ciclismo a rezzo non c'era niente e così via e poi magari mi ritrovo come ieri in una corso ciclistica gli ultimi lasciati a se stessi i ragazzi perché erano esordienti quindi lasciati per la strada senza nessuna scorta senza niente in mezzo alle auto che passavano che li sorpassavano e con nessuna sicurezza e invece qui sicuramente probabilmente sta benissimo in sicurezza eh sì assolutamente perché poi insomma è bello grande anche ha un uso come dicevi tu della corsa dell'atletica la vista poi è bella insomma si respira che è buona anche se nell'asfalto si corre male eh vabbè sì lo so lo so però insomma potrebbero esserci degli usi anche di questo tipo e magari si tornerebbe anche a viverlo e a tenerlo, mantenerlo perché guarda che erba alta ma vedi si fanno raduni anche altre cose oltre che di carte ieri ad esempio, no nei giorni scorsi, scusa c'è stato il raduno della Vespa ad Arezzo potrebbe essere un metodo, un modo per farli passare anche qui e fare delle prove speciali qua dentro senza farle per le strade perché no, per delle auto uguali, fare delle prove speciali potrebbe essere tranquillamente utilizzato anche per questo senza nessun problema o saltuariamente magari affidato a una società di gestione specifica che fa, non so, in questo caso fai carte oppure fa ciclismo e poi magari saltuariamente essere utilizzato anche per altri scopi, altre strutture perché no, si potrebbe fare tranquillamente comunque ci fa piacere che dopo appunto che avevamo stati qui e sembrava che insomma non si muovesse nulla ci fa piacere che adesso, magari con l'arrivo anche del bel tempo l'amministrazione comunale abbia intanto fatto questo sopralluogo per valutare, perché anche il discorso dei rumori se magari il kart superava, magari certi decibel magari non poteva andare bene ora sentiamo un treno però quindi direi che forse... è passato un'ora e poi un'altro uno dietro l'altro perché qui c'è la doppia linea quindi di conseguenza c'è la linea vecchia e la linea nuova questo è passato la linea vecchia di là è passata una linea nuova e in continuo passare i treni quindi il rumore c'è i rumori non è che mancano no, no, poi 24 ore su 24 ma sa, ci si fa l'abitudine chi abita qui vicino sicuramente ci fa l'abitudine quindi insomma ci auguriamo che visto che Arezzo si dice sempre che mancano le aree dove fare sport anche quelle nuove però poi non vengono utilizzate a dovere quindi speriamo che ci sia un cambio di pagina sotto questo punto di vista partendo magari anche da Sant'Andrea a Pigli grazie scriveteci a redazione chiocciolarezzettivo.net buona sera ciao 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 ciao